ci per tv bentornati lunedì 24 febbraio 2020 il vuoi di oggi lo sgrassatore universale 20 minuti armlamp con 20 wall balls 20 kettlebell swing 20 box jump 60 per gli uomini 50 per le donne 20 gobble squat e 20 oppure 15 calorie slow a seconda che siate uomini o donne pesi scalature sulla grafica qui di fianco per oggi è tutto ci vediamo domani per un altro vuoi insieme su super tv